Siamo in compagnia del Presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina, al quale chiedo subito un giudizio, un parere rispetto alla nuova identità di fiera che si andrà a svolgere tra il 14 e il 16 di febbraio, un ruolo centrale ce l'ha il territorio e quindi ovviamente anche un'istituzione importante come la Camera di Commercio di Torino. Grazie, siamo a questa diciottesima edizione con grande piacere come Camera di Commercio quindi molto contenti di mantenere la forte tradizione di AET ma di potenziarla quest'anno con grandi, importanti, anche più investimenti da parte degli enti pubblici, la grande collaborazione non solo con la Camera di Commercio ma anche con la Regione Piemonte, tutte le associazioni del territorio che hanno contribuito, il ruolo del Competence Center CIN 4.0 insieme, abbiamo costruito questa grande nuova edizione che avrà un focus importante, quello dell'intelligenza artificiale che ci sta arrivando come una grande onda che dobbiamo sapere interpretare, interpretare per l'utilizzo e veramente l'applicazione sulle filiere produttive, sulla manifattura, la grande tradizione del nostro territorio dove l'intelligenza artificiale sarà e dovrà essere utilizzata, diventa quindi un'opportunità. Abbiamo anche il tema della fondazione del Centro Nazionale per l'Intelligenza Artificiale che è stato scelto essere costituito e fondato a Torino nel nostro territorio, quindi un centro di valenza nazionale sull'intelligenza artificiale dedicata alle filiere produttive, alla manifattura. Su questo in AET ci sarà il grande spazio che tu hai organizzato che grazie al lavoro di Luciano Margaroli e di tutto lo staff è stato organizzato con più di mille metri quadri dedicati all'intelligenza artificiale con 17 casi proprio di applicazione in processi produttivi, quindi chi viene ad AET quest'anno vedrà veramente come l'intelligenza artificiale dal giochino che tutti facciamo di chat GPT di farci aiutare nella costruzione di testi o di darci risposte invece può essere applicata nella manifattura, nei processi industriali. Grazie Dario, allora entriamo un po' adesso nel vivo della fiera e cerchiamo di capire proprio per questa idea insomma di innovazione, di pensiero di innovazione ma anche poi di concretezza applicativa i servizi e le attività che Camera di Commercio presenterà un po' diciamo durante i tre giorni di manifestazione. Allora Camera di Commercio ovviamente ha una sua mission che è quella fra le altre, quella della digitalizzazione che è una grande parola che da anni sta attraversando le azioni della Camera di Commercio, noi abbiamo il punto imprese digitale che è un digital hub sostanzialmente per le piccole e medie imprese, noi guardiamo alle imprese un po' più piccole anche alle micro imprese che potranno quest'anno avere anche degli spunti sui temi digitali, abbiamo parlato negli anni precedenti di industria 4.0, di automazione e di sistemi di diciamo manifattura avanzata sulle piccole aziende anche artigiane, quindi la robotica, tutto quello che riguarda il controllo, il testing ma quest'anno cerchiamo di spostare l'asse anche sull'intelligenza artificiale quindi il punto imprese digitale è quella cinghia di trasmissione tra il mondo delle imprese, ricordo che in Piemonte sono iscritte alla Camera, scusate in provincia di Torino sono iscritte alla Camera di Commercio 223.000 imprese, di queste tantissime avranno bisogno e hanno ancora bisogno forte di supporto nel digitale, quindi il punto imprese digitale fa questo. Partecipiamo poi a dei progetti importanti, il progetto Expand che è il progetto insieme al Competence Center e ad altre istituzioni, un progetto della rete europea dei Digital Innovation Hub che sono la grande rete europea che qui in Italia chiamiamo più Competence Center, solo per spiegare non è facile districarsi in queste definizioni, il progetto Expand che vuole appunto portare progettualità e risorse europee nella digitalizzazione delle imprese. abbiamo anche un progetto che annunceremo che è Zero, me lo tagli poi questo, Mission Carb Zero quindi ripeto, ripeto, si bravo, devo rifare la domanda? no, no, io riparto, mi veniva Mission Carb quindi come Camera di Commercio partecipiamo anche a progetti europei come Expand che verranno ulteriormente presentati durante AET che è un progetto europeo che mette insieme più di 200 Digital Innovation Hub che in Italia qui chiamiamo più Competence Center e presenteremo anche Mission Carb Zero che è un progetto di sostenibilità per la riduzione delle emissioni. Come l'intelligenza artificiale anche il tema della sostenibilità è ovviamente impatta nei processi produttivi, lo dico anche da imprenditore, siamo tutti orientati a cercare di rendere efficienti i processi produttivi, migliorare le nostre produttività ma anche ridurre l'impatto ambientale. Questi sono i grandi pilastri che accomunano anche l'azione della Camera di Commercio e spingono la Camera di Commercio ad essere sempre più vicina alle aziende. Un concetto importante che porta le aziende piemontese avere una grande vetrina ma anche un'opportunità per le aziende di venire a vedere il fronte avanzato delle tecnologie veramente sfruttabili già da oggi. Questo è importante, la concretezza di AET sul quale abbiamo puntato molto insieme. Noi ringraziamo Dario Gallina per il suo intervento e buona fiera a tutti. Grazie a voi. Grazie. Grazie.